effettivamente sì, lo sai Feri che Anna non c'è questi giorni? sì lo so molto brutta già mi manca vuoi provare tu a fare il saluto iniziale di Anna e di solito dice ciao carciofini eh no non sono brava non era una domanda allora ciao bellissime piccole pezze di torte di cioccolata no ma in quietante sembra Jeff the Killer questa roba qua ciao pezze di torte di cioccolata ci sono spaventati vi massacrerò e berrò il vostro tangue no 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 no